Buonasera a tutti, oggi parliamo della situazione casertana di terra di lavoro nella seconda metà degli anni 70 e parlare di questo significa sostanzialmente, ma non solo, parlare della situazione casertana per quanto riguarda i gruppi d'azione dell'arte nel sociale significa parlare innanzitutto, anche se non unicamente, come vedremo del gruppo linea continua terra di lavoro. Il gruppo linea continua terra di lavoro e partirei dal nome per iniziare a capire i primi elementi, per iniziare a mettere a fuoco i primi elementi su linea continua terra di lavoro. C'è innanzitutto Enrico Crisporti che a proposito del nome parla della necessità di riassumere e tesaurizzare una tradizione locale di ricerche d'avanguardia che riconta al 1966. A cosa si riferisce Crisporti? Crisporti si riferisce a tutta una serie di aggregazioni di cui ho già parlato nella contestazione dell'arte che partono dall'iniziativa di Luca Castellano perché la fine del 1966 è la mostra proposta 66 nella sezione del PC di via dei Fiorentini a Napoli dalla quale poi Luca, Luigi Castellano fa emergere un gruppo che il gruppo che il gruppo appunto proposta 66, P66 e attraverso anche la mediazione di personaggi come Gabriele Marino e Crescenzo del Vecchio che sono due artisti casertani che però sono spesso a Napoli e facevano parte del gruppo P66. Attraverso questa mediazione nasce il gruppo P66 Terra di Lavoro e il quale poi si trasforma nel corso degli anni 60, della fine degli anni 60, in Comune 2, quindi cambia nome. Poi ancora c'è il gruppo Junk Culture, Cultura del Rifiuto, di cui ho messo un'immagine qualche giorno fa proprio perché visto che si è parlato dei monumenti ho voluto mettere quel grande monumento, tomba intitolato al padrone, ai suoi rifiuti che il gruppo di Junk Culture di Caserta, Junk che è spazzatura, rifiuto, volle appunto porre sul lungomare di Napoli nottetempo e chiaramente era un monumento antimonumento. Ora, quindi di questo e di altro si fanno promotori questi gruppi, quindi nel decennio che va dalla seconda metà degli anni 60 alla prima metà degli anni 70. Quindi per linea continua Terra di Lavoro, che sostanzialmente nasce nel 1976, un pochino più tardi degli altri gruppi di cui ci stiamo occupando mediamente, linea continua, chiamarsi linea continua significa richiamarsi appunto a quelle esperienze. C'è però anche un altro suggerimento a proposito del nome, che viene da Luca Palermo. Luca Palermo che innanzitutto saluto perché è probabile che può darsi che mi stia guardando, oppure che si sintonizzerà più tardi. Così come saluto tutti i membri di linea continua che di qui a poco verrò a nominare, alcuni dei quali seguono spesso queste mie dirette e immagino tanto più seguiranno questa diretta in cui parlo di loro. In particolare però nomino Luca Palermo perché il capitolo della cooperazione dell'arte che è dedicato a linea continua Terra di Lavoro, si chiama proprio così, linea continua Terra di Lavoro, e si avvale ampiamente del lavoro che ha fatto qualche anno fa proprio il mio coetaneo e collega Luca Palermo che consisteva appunto in una mostra e poi in una mostra molto corposa nella zona del Casertano e poi in un grande volume nel quale ho parlato ampiamente di tutte queste esperienze del Casertano, quelle di cui ho parlato prima e qualche altra cosina di dopo. Dunque, vi dicevo, Luca Palermo in questo volume, a cui ho attinto molto del materiale, quindi è stato importante, osserva che sussiste questa assonanza con il movimento della sinistra extraparlamentare italiana e una lotta continua e da qui, dice Luca Palermo, si può intuire il portato rivoluzionario e il substrato sociale e politico sul quale il collettivo artistico casertano fonderà tutta la sua attività. In effetti sono vere entrambe le cose, perché gli operatori di linea continua hanno conosciuto molto da vicino gli operatori dei collettivi precedenti, anzi qualcuno vi ha anche fatto parte, quindi questa continuità ci sta tutta. D'altra parte, nella loro azione, come vedremo, c'è una sorta di surplus di agire più specificamente politico rispetto alla media dei gruppi che di solito osserviamo e che appunto si lega a quello che diceva sul legame con lotta continua Luca Palermo, ma è da vedersi sia come un retaggio appunto dei vecchi gruppi delle istanze di Luca che, come sappiamo, insomma aveva spinto moltissimo in quell'arco di anni per un'arte che diventasse scrittura delle istanze del proletariato e che appunto fosse integrata ai movimenti, anche se io studiando le azioni di linea continua ho anche notato che c'è una grande aderenza delle loro azioni alla specificità del territorio, alle sue urgenze e quindi io credo che sostanzialmente questo surplus di politico possa essere suggerito anche dalla specificità del contesto in cui si trovavano ad operare. Politicizzazione più spinta che poi i documenti del gruppo testimoniano in maniera molto chiara. Questo gruppo per esempio ha un suo teorico, non è un artista ma è un critico, che non realizza opere però è una mente molto importante per quanto riguarda linea continua e anche in generale per le teorizzazioni del sociale, un po' quei teorici minori rispetto a crisporti come può essere stato Gerardo Pevicini, sto parlando di Enzo Di Grazia. Enzo Di Grazia che firma una sorta di manifesto che va a finire nel libretto russo, cosiddetto dato il colore della copertina, che insomma però ovviamente è chiaro che non era un caso che il libretto era russo e non era neanche un caso che lo si chiamasse libretto russo perché ovviamente chiamare libretto russo, fare questa espressione a metà degli anni 70 voleva stare a indicare specifici rimandi di carattere politico-culturale e Di Grazia nel libretto russo parla di un indirizzo comune rinvenibile nella volontà di impegno nella direzione di una cultura e di un'arte che muovendo dal concreto dalla realtà delle masse lavoratrici si rivolgesse a esse con un linguaggio accessibile di operazioni che non fossero più solo la provocazione, spesso fin anche gratuita, su temi generali o talvolta generici, la denuncia senza alternative di uno stato di fatto ma che a fianco della denuncia e alla provocazione proponessero l'alternativa politica che partissero dalla realtà delle masse non per utilizzarle ma per farle protagonista e investirle delle stesse operazioni per legarsi a esse nella lotta in maniera intima e articolata tutto ciò è storia recente, visitabile e visitata ancora nelle iniziative che si vanno conducendo e chiarisce inoltre che l'animazione di piazza questo è il tratto che connette più di ogni altro linea continua ai gruppi fratelli che l'animazione di piazza è forse il mezzo più efficace per ottenere il più ampio coinvolgimento la massima diffusione della comunicazione e la più intensa partecipazione ad attività solo apparentemente ludiche quindi da una parte la conoscenza generale degli stati di fatto il radicamento nel territorio, uscire per strada, conoscere, parlare dei problemi del territorio dall'altra non fermarsi appunto alla semplice denuncia ma proporre tutta una serie di soluzioni di carattere creativo che però non perdessero mai di vista quello che era anche la vita concreta dei cittadini non volevano essere solo simboliche ecco, volevano essere anche soluzioni che entravano proprio che si calavano proprio nella vita quotidiana e poi vedremo meglio cosa significava questo per esempio quando parleremo dell'azione del 77 a Nocera Inferiore sempre nel libretto rosso Crispolti il quale, insomma, così come fa per quasi tutti i gruppi di cui abbiamo parlato è anche un sostenitore fin dai primi passi di linea continua anche se linea continua a caso di una leggera sfasatura temporale non compare alla Biennale di Venezia però compaiono come singoli perché vi dicevo appunto che linea continua si è formato un poco poco più tardi qualche mese più tardi rispetto alla media degli altri gruppi e dicevo che Crispolti nel libretto rosso cerca di entrare più nello specifico dell'attività del gruppo e ne individua le tematiche ricorrenti anche facendo a questo punto dei nomi perché prima o poi i nomi dei personaggi dovremmo farli così scrive Crispolti parla, Crispolti, di critica dissacrante ai miti patri della patria capitalista alla quale si estranei se non per caduta subalterna ed esattamente il tema della speculazione fondiaria e della gestione economica di rapina con il conseguente disastro ecologico eccetera il riferimento è a Raffaele Bova e alla sua azione CES2O di cui parlerò di qui a poco è il tema connesso alla mistificante difesa della lira momento di ulteriore sfruttamento subalterno e anche qui Bova e il suo ciclo della lira simbolo di patrie capitalistiche virtù Raffaele Bova pure vedremo come insomma piccola anticipazione lavora proprio sul simbolo della lira è una sua cifra caratterizzante il tema della prevaricazione burocratica atavico strumento di espropriazione e rapina nel mezzogiorno opere e azioni di Livio Marino fratello minore di Gabriele Marino da non confondere con il Gabriele Marino del gruppo P66 che poi lavora anche in qualche occasione nelle azioni di linea continua terra di lavoro ma Gabriele Marino è il maggiore che non è tra i protagonisti principali di linea continua terra di lavoro a differenza di Livio Marino Atellano che invece è costantemente uno dei protagonisti principali è uno che praticamente non manca quasi mai nelle azioni di linea continua il tema dei simboli del potere capitalistico ribattezzato sul motivo della realtà popolare subalterna di Caserta rurale colonizzata dalla reggia borbolica e poi invece i temi non più soltanto di critica non più soltanto di rimenti ma di sollecitazione a un'autocoscienza culturale proletaria e soprattutto contadina come Peppe Ferraro e Pierino Gallo qui a poco verremo a analizzare quella che è la poetica individuale dei principali esponenti però prima di fare questo voglio chiarire come si configura linea continua nel rapporto tra singoli e collettivo io credo che linea continua stia un po' a metra strada tra ciò che è il gruppo Salerno 75 e ciò che sono le ambulanti in che senso? nel senso che il gruppo Salerno 75 per quanto ci siano anche delle azioni individuali o fatte da due solo di loro del gruppo Salerno 75 compie le sue azioni memorabili più importanti di cui ho parlato a suo tempo con il gruppo al completo e senza che si possa distinguere la mano dell'uno dalla mano dell'altro gli ambulanti invece cosa fanno? ognuno sviluppa una particolare poetica e tranne in alcuni casi sostanzialmente agiscono spesso sparpagliati la linea continua terra di lavoro ha invece un sviluppo discorsi autonomi sul piano dei linguaggi e delle istanze però a differenza di quindi come gli ambulanti ognuno ha delle cifre autonome però a differenza degli ambulanti tutto ciò trova quasi sempre il suo momento di maggiore valorizzazione nell'operare collettivo oltre che naturalmente in cooperazione con altre soggettività così questa è la storia fermo restando che appunto prima di parlare delle azioni collettive voglio mettere un po' a fuoco l'attitudine dei principali protagonisti partiamo da Raffaele Bova di cui ho già accennato c'è un'operazione di piazza insomma di Raffaele Bova che lui pensa in occasione della cosiddetta prima domenica di austerity ovvero della prima domenica a piedi voluta dal governo siamo ancora entro la prima metà degli anni settanta quindi ancora non si è formato ufficialmente linea continua terra di lavoro e anche se poi quest'opera viene accolta nel libricino di linea continua terra di lavoro praticamente lui durante questa domenica che dicevo era stata questa domenica a piedi per chi non lo sapesse per i più giovani sono pensate prima per fronteggiare la crisi vetrolifera la crisi del Kippur del 76 e poi anche per limitare lo smog gli anni settanta sono il momento in cui comincia a crearsi una sensibilità ambientale di massa l'occidente comincia a capire che è parecchio inquinato e cosa fa in questa azione all'esterno prende una grande pennarello nero in cui scrive la sigla CE aperta parentesi S2O ovvero su questo pennarello con questo pennarello scrive su un piedistallo questa sigla e poi questa sigla che è CS2O che rimanda accesso ma è anche la sigla dell'anidride carbonica dell'anidride carbonica che viene immessa nell'aria e su questo piedistallo c'è un gabinetto tutto ciò viene posto nella borghesissima nel cuore della borghesissima città di Caserta nella centralissima piazza Dante chi è di Caserta conosce piazza Dante io non ce l'ho ben presente però magari se la vedo quindi l'idea è di denunciare gli effetti nefasti dell'anidride carbonica per il nostro pianeta ma Peppe Pappa mi scrive oggi sei in rete si 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 ho già par l'anidride scusate però se uno fa le cose in diretta le fa in diretta Peppe Pappa gli vogliamo bene e quindi dovevo rispondere scusate la piccola interruzione comunque stavo dicendo ah stavo dicendo Questa uscita di un oggetto dallo spazio deputato per l'esposizione dell'oggetto artistico rimanda un po' a Duchamp, è un po' come se invertisse l'operazione di Duchamp. Duchamp prende un orinatoio o decontestualizza e lo pone, come sapete, in uno spazio espositivo. Invece Bova non fa che, dopo qualche decina d'anni, 50-60 anni, prende un oggetto che ormai è assolutamente artisticizzato all'interno di uno spazio espositivo e lo mette fuori, quindi porta l'arte, che all'inizio non era arte, ma era ready-made, quindi anti-arte, e la porta al di fuori in maniera chiaramente molto irriverente. e viene collocato quindi questo oggetto in un luogo assolutamente incongruo, perché se la galleria oramai è diventata congrua per un orinatoio, non lo è la strada. Bova commenta che appunto lui vuole parlare dei rifiuti ideali e reali della società, simbolo della denuncia di un processo di depauperamento sociale, politico e culturale. Però, assai presto, Raffaele Bova mette in evidenza, lui stesso fa autocritica, i limiti di questa operazione, perché lui dice che è come se con questa operazione non avesse toccato quelli che sono i problemi più scottanti, più urgenti. I problemi più scottanti sono sostanzialmente da un'altra parte, si toccano in un altro modo. Quindi, lui ritiene questa operazione limitante e scrive Nell'analisi, cioè delle conseguenze di uno sviluppo caotico ed esasperatamente produttivo dei beni superflui e dei loro rifiuti, non ci si è resi conto, cioè lui non si è reso conto, lui e anche altri, o non ci si è voluti rendere conto, che il problema reale, quello vivo e spaventosamente attuale, era in definitiva quello del capitalismo esasperato, della ricchezza fittizia, del boom economico-artificioso e produttivo di beni superflui, superflui, di sperequazioni sociali, di pericolosi rifiuti. E quindi, nei suoi segni poetici stessi, Bova ritiene di aver commesso un errore e da qui il suo proposito di concentrarsi su un segno differente, ovvero quello del denaro e in particolare della lira, che all'epoca, e ancora per due decenni e mezzo, l'Italia aveva la lira. Venne quasi di conseguenza, scrive ancora, un altro monumento, una lira di due metri di diametro ruotante su una base da dare corpo a una serie di abbozzi già avviati, ad aprire il discorso sul capitalismo distorto e distorcente, causa prima e originale dei mali, fino ad allora denunciati. Quindi ritiene di andare all'origine della questione, che è appunto il capitalismo assoluto, come si dice oggi, l'ipercapitalismo, il capitalismo che nella sua stessa natura non conosce limiti e quindi sostanzialmente è come se dicesse che non si può fare un discorso di carattere ambientalista se non si mettono in discussione le logiche capitalistiche. Peppe Ferraro è più o meno sulla stessa lunghezza d'onda, perché l'uomo economico, consumatore e consumista, scrive lui, che ci propone ogni giorno la società del falso benessere attraverso tutti i canali di persuasione, è anche un suo bersaglio. Cosa fa in particolare? Qual è in particolare il discorso di Peppe Ferraro? Peppe Ferraro se la prende con il movimento di recupero del mondo popolare, che secondo lui è, insomma, all'epoca esisteva una grande spinta che andava in questa direzione, nel recupero del primitivo delle tradizioni popolari, però lui dice che questo è stato un movimento che è stato paradossalmente funzionale alla logica capitalista con la quale pure la corsa al primitivo sarebbe dovuta entrare in collisione, come se il capitalismo fosse stato in grado di sussumere, di integrare un discorso che era contrario alle sue logiche, cioè quello del ritorno ad una vita preindustriale, quindi le tradizioni popolari, tutto un senso di gratuità, di territorio non colonizzato dall'oppressione dell'iper funzionalismo economico, e però dice Peppe Ferraro che tutto ciò è stato di fatto usato, come diremmo oggi, grazie a un termine reso noto da Naomi Klein, diciamo che è stata un'operazione di rebranding, cioè il capitalismo si è fatto una nuova immagine, oppure oggi, da un bel po' di tempo, in realtà va di moda, ma va di moda perché esiste, il greenwashing, il capitalismo, la comunicazione della produzione capitalista, quindi pubblicitaria, che adopera gli argomenti della tutela, della salvaguardia dell'ambiente come strategie di marketing, e questo è qualcosa che è in fase assolutamente avanzata. Quindi i suoi, che cosa fa Peppe Ferraro, perché poi ognuno ha dei suoi segni particolari? Il suo è lo spaventapasseri, che rappresenta questa reminiscenza di quel primitivismo evocato, ricercato, e però è appunto lo spaventapasseri, una figura di tutti noi, per la distruzione cosciente, ottusa e progressiva che operiamo noi stessi, non può tremare uno spaventapasseri, neppure ormai i passeri stessi, distrutti dalla caccia indiscriminata, o i bambini plasmati da modelli televisivi, non può tremare, nessuno può temere, scusate, lo spaventapasseri, insomma. Però lo spaventapasseri ha appunto un'identità ambivalente, perché da una parte questo spaventapasseri è un essere debole, schiacciato dalla prepotenza, dalla tracotanzia del capitale, quindi depredato, espropriato della sua capacità di autodeterminazione, di vita autentica, eccetera, però dall'altra lui scrive anche questo, non insegniamo, è un'esortazione, non insegniamo ai nostri figli, ai figli dei proletari, la lingua, la vita del padrone, perché aspirino a esse e rimangano invece serviti del sistema, insegniamo piuttosto loro ad avere coscienza della loro realtà, della loro dignità, ricostruiamo con essi i pupazzi del potere proletario, gli spaventapasseri che hanno fatto paura alla borghesia storica, e che la borghesia storica vede come i soli avversari, non da abbattere, perché non ce la farebbe mai, ma da stravolgere, da panicolare, da asservire al sistema. Quindi lo spaventapasseri che assume una doppia valenza, può essere messo in un angolo, può essere appunto stravolto, manipolato, però può anche essere un soggetto resistente e che addirittura, così come ha fatto paura alla borghesia storica, può ancora fare paura perché è portatore di una cultura contraria alla borghesia, contraria al capitalismo, e che appunto questa borghesia può solo stravolgere, ma non può abbattere, non può abbattere, quindi questo spaventapasseri nella sua debolezza è anche forte. e questo è poi il fascino ambiguo di questa figura di spaventapasseri, che poi lui adopera sia come tutti gli altri in azioni individuali, ma poi metterà anche a disposizione delle azioni collettive del gruppo. c'è poi Pierino Gallo, che adopera un'altra figura che potrebbe avere qualche analogia fino a un certo punto con lo spaventapasseri, che è il fantasma, sostanzialmente delle sagome vute. e del resto il discorso di Ferraro, una cosa che osservavo in particolare, ha molto a che vedere con tutta una serie di discorsi più o meno post-sviluppisti, che all'epoca fanno personaggi come Ivan Illich, o come Pierpaolo Pasolini, o come anche Marcuse, o come anche il De Borre in particolare, penso il Guy De Borre, non tanto della società dello spettacolo, ma del pianeta malato. e appunto in Pierino Gallo mi sembra di vedere un po' i riferimenti in parte simili, per esempio quando lui dimostra assolutamente di condividere una concezione di progresso non meramente quantitativa, è come non percepire ancora una volta qui la voce di Pasolini, il processo non coincide con lo sviluppo, diceva Pasolini, con lo sviluppo economico, e questo discorso che lui dice, Pierino Gallo, proviene ormai da tante voci, dalle più qualificate, discorso per cui non ci deve essere solo più una conquista dei beni necessari, ma anche una dimensione umana dell'uomo nella realtà, di una sua presenza sociale e culturale che in definitiva strutturale ha la sua stessa esistenza individuale e collettiva. E da qui la sua azione, diciamo così, di ripopolamento simbolico dei quartieri antichi che la ghettizzazione e la spegulazione di vizia avevano teso a evacuare con l'espulsione. Quindi queste sue sagome, queste presenze fantasmatiche di Gallo, da una parte denunciano il fenomeno dello spopolamento, tanto è vero che si parla di paesi fantasma, per riferirci a quei paesi che oramai magari negli interland più sperduti insomma del sud Italia e forse non solo, hanno ormai perso quasi la popolazione oggi più di ieri, anche se poi si parla di tendenze inverse, tanti personaggi autorevoli, parlano di un ritorno ai piccoli paesini, alla campagna, eccetera, eccetera, e dall'altra però questi 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 queste sagome fantasmi potrebbero essere anche interpretati come segni di una condizione precedente a quella che deve venire, cioè quella di una di un umanesimo socialista come fondazione di una società di uomini maturi e coscienti immersi nella realtà e protagonisti di essa, queste sono parole, umanesimo socialista sono parole di Pierino Gallo, quindi insomma e questa rivela la sua utopia sociale e politica. Poi abbiamo un personaggio di grande interesse che mi segue sempre, penso che mi stia seguendo anche ora, così come anche Raffaele Boba, mi segue sempre, ovvero Livio Marino Atellano. Una sua opera ci riconduce in maniera abbastanza stretta al lavoro di Bova, di Raffaele Bova e funziona come testimonianza dell'interscambio che spesso e volentieri avviene tra i vari soggetti del collettivo, anche sul piano degli archetipi, di questi archetipi individualizzati e individualizzanti di cui stiamo parlando, perché appunto Livio Marino disegna un'immaginaria moneta da 750 lire che richiama appunto il segno caratterizzante di Bova, ma al di sotto si legge in corsivo ci sono ancora ostacoli burocratici, burocratici scritto con tutte le lettere maiuscole da superare e per lui tutto ciò è testimonianza della costante denuncia dell'uomo sociale oppresso dalla burocrazia, dalla tecnocrazia, dall'oligarchia imprenditoriale e capitalista che negli enti pubblici fa altrettanti feudi privati e degli impiegati assenteisti e pubblici galoppini e fiscali, un vero e proprio esercito di parassiti istituzionalizzati gonfiato fino all'inverosimile capace di sommergere le carte più strane qualunque iniziativa e quindi il discorso portato avanti da Livio Marino è un discorso contro il concetto di burocrazia di burocratizzazione e quindi è un discorso umanistico contro l'antiumanismo contro la disumanizzazione oserei dire della burocrazia e il suo archetipo diciamo tratto caratterizzante è appunto il timbro perché lui mette in scena delle sorta di azioni iperpoliche in cui timbra tutto fino all'impazzata e lo dichiara ancora vi dichiarò qualche anno fa quando insomma in occasione della della mostra curata da da Luca Palermo si ripresero un po' queste performance che lui si si era e si ispirava anche ad un film di Totò Totò cerca casa che se lo trovate questa scena dei timbri la trovate anche su YouTube in cui appunto il protagonista Totò che si trova in un ufficio in un contesto burocratico prende ad apporre timbri dovunque in maniera compulsiva e ancora leggiamo un passo delle parole di Livio Marino spezzare in frammenti un timbro o timbrare tutto fino anche gli uomini è il gesto di chi vuole avvertire a che punto di aberrazione può giungere il rapporto burocratizzante ma è anche l'indicazione di un nemico da battere per eliminare le barriere sovrastrutturali per spezzare via tanti troppi carrozzoni inutili che pesano di noi su tutti noi e ci soffocano ci opprimono ci manovrano come oggetti meccanici e ci fanno pagare alla fine il potere degli altri quindi è chiaro che la critica che fa Livio Marino della burocrazia è assolutamente solidale con i discorsi in favore di una riqualificazione diciamo così dell'elemento umano che abbiamo potuto fare per esempio a Ferraro o a Gallo ma è anche in piena sintonia con gli autori citati da Illich a Debor mentre è assolutamente in contrasto con tutte le logiche di tutti i regimi allora presunti comunisti e aggiungo io con i loro libretti russi per quanto in Italia insomma la vera la reale entità del maoismo si è stata capita un po' tardi perché appunto pensiamo al libro di Bruno Rizzi la burocratizzazione del mondo che si riferiva proprio al modo di all'oppressione burocratica sul proletariato e non il nome del proletariato dei regimi socialisti dell'Unione sovietica o che comunque si riferivano ad essa ma lo stesso Gidebor lo stesso Illich lo stesso Marcuse che nel 58 scrive Soviet Marxismo tutti questi in effetti criticano la realtà del socialismo nei paesi presunto socialismo realizzato quinto ed ultimo personaggio che vado ad approfondire è Aldo ribattezzato io mi sono riferito al libretto russo sul libretto russo ci sono questi cinque poi ci sono anche altri che sono importanti e li vedremo nel corso della trattazione Aldo ribattezzato si scontra proprio il caso di dirlo con quella grande icona del potere di cui chi vive a Caserta non può non accorgersi ovviamente la reggia di Caserta la reggia di Caserta per chi non è casertano e chi non ha un certo tipo di formazione ovviamente la vede come un luogo dove passare la Pasquetta dove andare a farsi i selfie eccetera però ribattezzato va un po' a scavare quella che è la storia pregressa di Caserta della reggia di Caserta di Caserta che senza la reggia neanche esisterebbe e ribaltando così con pungente ironia quella tradizione fiabbesca che identifica il potere regnante con un protagonismo positivo così racconta la genesi storica e ascoltiamo quindi ribattezzato c'era una volta una valle ai piedi dell'Appennino potrebbe cominciare così una bella favola fatta per bambini con la regina con il grande architetto Gimamitelli e tutta una corte di principi di Duchi e di Marchesi ma non si tratterebbe che di una amara favola poiché la reggia non è che il simbolo visibile tangibile opprimente del potere borbonico il peggiore del mondo il più degradante quello dei Lazzaroni dei pezzenti napoletani della famia tavica del sud ora l'ancoraggio alla specificità del luogo e del tempo non è un semplice dettaglio perché come scrive ancora ribattezzato la città va ad occupare una valle amena fatta per l'agricoltura e mai concessa ai contadini sulla cui fame sulla cui miseria sulla cui pelle cotta dal sole il regime costruì gli arditi ponti della valle per strappare l'acqua ai campi e portarla alla sua cascata quindi vedete che feroce ma anche penetrante denuncia di carattere storico nel senso che lui dice questo strumento di oppressione questa situazione di subalternità strutturale alla stessa città di caserta va avanti da secoli e anche come dire quando vi parlavo di ancoraggio al territorio quando si parla di politica parlavo anche di questo e poi lui dice appunto che non è che l'oppressione è finita con il borbone ma è continuata con il Savoia riduce e ora nel momento in cui scrive con i mamma santissima della democrazia parlamentare il destino della reggia è rimasto lo stesso tuttavia è un partire dal particolare che poi andare al generale il discorso trascende lo specifico locale per farsi denuncia di un'oppressione più generale globale e atavica perché lui si chiede scrive ancora quante sono le finestre in Italia non c'è solo quella di piazza san pietro non c'è solo la finestra pardonner un balcone ma fa lo stesso di piazza venezia in ogni città in ogni paese in ogni agglomerato civile dove vivono gli uomini che lavorano che lottano che soffrono che sperano c'è una finestra ma basta spesso anche un balcone una terrazza un palco o un semplice baldacchino quindi la finestra come la moneta per bova o il timbro per marino diventa il simbolo caratterizzante di ribattezzato e tra l'altro c'è una cosa che non voglio omettere di dire però è che il discorso sulla reggia vambitelliana come simbolo del potere credo che venga spontaneo ad un casertano che ha una certa formazione una certa impostazione politica e culturale guardare alla reggia in questo modo e questo discorso risale almeno alle sperimentazioni di un altro gruppo casertano di inizio di decennio di cui vi ho parlato e di cui guarda caso è stato parte lo stesso ribattezzato lo junk culture cultura del rifiuto vi ricordate che vi ho parlato di questo della tomba del cenotafio del padrone che loro realizzano ponendola sul lungomare di Napoli ebbene lo junk culture è autore anche di un altro di un altro intervento di cui ho parlato a suo tempo nella contestazione dell'arte ovvero di un grande manifesto che viene affisso sul muro che ritrae l'immaginario ma provocatorio spettacolo della facciata della reggia vammitelliana con una moltitudine di lavoratori che stanziano sul tetto in occupazione come se la reggia fosse occupata come un popolo che in qualche modo prende il palazzo d'inverno il palazzo del potere e quindi fa la rivoluzione espropriando il potere del suo cure ecco ed è un'immagine di grande eloquenza che se non sbaglio fu pubblicata anche sulla sulla rivista No di no forse fu fu esposta alla mostra o forse fu esposta alla mostra Politication organizzata da artisti vicini a Luca insomma è un discorso che che entra insomma in tutti quei fermenti che poi vanno a sfociare nella nella prop art di cui abbiamo parlato in in altre occasioni benché presente nel libretto rosso dobbiamo dire che Perino Gallo è una presenza alquanto saltuaria questo bisogna dirlo viceversa un altro che non è presente nel nel libretto rosso che però accompagna è molto spesso presente invece nelle operazioni del gruppo è Armando Napoletano chi è Armando Napoletano scrive Luca Valermo Antiquario e Corniciaio Guardaporta come amava definirsi scherzosamente titolare dello spazio espositivo casertano che assume lo stesso nome del collettivo nel quale fanno varie mostre non solo il collettivo ma anche altri operatori anche di quelli spesso parliamo inizialmente inoltre di linea continua terra di lavoro fanno parte anche dei veterani insomma appartenenti già ad altri gruppi casertani precedenti ovvero Matti Anziano Giovanni Tariello e Paolo Ventriglia i quali però abbandonano il gruppo relativamente presto già nel novembre del 76 perché non si riconoscono nei contenuti del manifesto contenuto appunto nel libretto rosso e redatto da Di Grazia questo manifesto si intitola I contenuti del 68 si sono esauriti poi ne verrò a parlare ci sono poi ancora per un piccolo periodo i più giovani Alessandro del Gaudio e Lucia Romualdi i quali però si allontanano quasi subito per motivi di forza maggiore uno perché ancora troppo impegnato negli studi del Gaudio e la Romualdi invece perché si trasferisce in altra area geografica fermo restando che poi nuovi membri si aggiungono comunque episodicamente in occasione delle varie operazioni non mancherò al suo momento opportuno di menzionarli per quanto riguarda la composizione del gruppo è interessante la testimonianza alquanto recente di Livio Marino che dice col passare del tempo anche linea continua cominciò a vedere inclinarsi i rapporti interni spesso tra noi vi erano scontri anche abbastanza violenti di tipo ideologico dettati dalla diversa estrazione politica di ognuno di noi c'era infatti chi era più vicino alle idee comuniste che a quelle socialiste e c'erano poi gli anarcoidi non anarchici gli scontri tuttavia da un piano meramente ideologico si spostavano a livello estetico l'impressione era che qualcuno volesse sfruttare il collettivo per cercare di emergere come singolo nel sistema dell'arte mentre altri come me credevano nel ruolo e nelle potenzialità sociali dell'arte inoltre continua Livio Marino nei vari gruppi campani ma non solo esisteva sempre una doppia anima una di matrice politica l'altra di natura prettamente poetica quando il politico e il poetico erano correttamente bilanciati venivano fuori grandi operazioni cosa che però non accadeva quando una delle due anime prendeva il sopravvento sull'altra e appunto tali scontri tra poetico e politico sono all'origine della diaspora interna legata a insomma a quelli degli artisti che abbiamo detto prima Ventriglia Tariello e Anziano mentre quelli che restarono Bova ribattizzato Ferraro Napolitano e Io costituiscono poi lo zoccolo duro del collettivo al quale nel corso degli interventi si affiancavano di volta in volta anche i vari artisti questa formazione base è attiva ad esempio all'inizio del 77 anno c'era inferiore dove Linea Continua mette in atto una serie di linee programmatiche che sono ben sintetizzate appunto nel manifesto di cui abbiamo detto che provoca la rottura e che vi vengo a leggere adesso qualche frammento il manifesto di Di Grazia i contenuti del 68 si sono esauriti proposta poetico-politica di soluzioni alternative alla realtà disgregata della regione attraverso l'intervento diretto sul sociale con azioni che siano individuali nell'uso dei segni e dei mezzi però collettive nelle ipotesi generale di definizione della proposta e dell'indicazione perché il fine è di stabilire un collegamento integrale alla realtà del territorio con le forze reali del paese masse di lavoratori organizzazioni democratiche di base strutture sociali e politiche naturalmente poi al tutto è propedeutica una ricognizione capillare del territorio un'analisi dialogante di quelli che sono i bisogni del territorio quindi in sinergia con alcune associazioni culturali del luogo si comincia a pensare al recupero alla rivitalizzazione del rione di nocere inferiore rione capo casale e linea continua redige un ampio documento che prevede tutta una serie di interventi del documento si parla di un ambiente si parla del fatto che nella piazza con le sue abitazioni in rovina che è un ambiente sovrastrittura edilizio speculativa che sarà anche ambiente per le interviste ad amministratori e responsabili cittadini attualmente presenti poi si prevede un baldacchino in posizione elevata da cui si affaccia un manichino che per mezzo di un amplificatore pronuncia un discorso disarticolato figura della politica demagogica e parolaia sulla pelle e sulla miseria dei cittadini poi si prevede ancora la ripulitura e il ripristino della funzionalità del forno tradizionalmente centro di aggregazione sociale e la risistemazione di tutte le strutture primarie rete idrica fognante rete fognante elettrica e telefonica ancora interviste ai cittadini in dialetto e invito alla collaborazione e alla panificazione perché se si ripristinava il forno si ripristinava anche la panificazione quindi tutta una serie di interventi che da una parte appunto come vi dicevo prima investono l'aspetto più creativo che può provenire dagli artisti ma dagli altri ma dall'altro c'è anche una politicizzazione nel senso di andare incontro alle esigenze più concrete e se vogliamo anche un po' impoetiche perché loro parlano di arie verdi però anche di acqua corrente linea telefonica elettricità quindi loro vogliono sostanzialmente che insomma il loro intervento sia integrale che vogliono pensare alla vita dei cittadini a 360 gradi e questo è qui ritorniamo un po' al dibattito che abbiamo sfiorato più volte però penso in particolare all'episodio della filanda di Enzo Navarra parentesi Enzo Navarra lo incontreremo tra poco perché è uno dei personaggi che fa parte del prende parte di alcune azioni del collettivo linea continua terra di lavoro vi ricordate che quando l'operazione della filanda di Accordenon di Navarra fallisce Chris Polti dice che tutto sommato se non c'è il braccio politico solo l'artista fino a un certo punto invece qui come dire c'è una rivendicazione da parte del collettivo linea continua terra di lavoro davvero di non dico di fare da solo perché appunto nulla è mai possibile senza la anzi insomma l'idea della partecipazione del del contatto del coinvolgimento del territorio è centrale però è come se arrogassero a sé in maniera molto avanzata anche il ruolo di pianificazione che di solito riguarda la politica quindi c'è una politicizzazione molto avanzata anche negli aspetti più materiali appunto la linea telefonica noi stiamo parlando l'acqua corrente noi stiamo parlando di un ambiente di un rione profondamente degradato Luca Palermo parla dell'intervento di Nocera come il vero battesimo di fuoco per il collettivo nel senso che per la prima volta secondo Palermo lì il collettivo definisce teoricamente e concretamente il suo metodo rafforzando il legame già avviato con le esperienze precedenti e con le realtà sociali del territorio quindi insomma è una prova all'interno della quale i singoli cercano da una parte di mettere insieme i loro specifici rapporti ma da una parte appunto dall'altra di portare al massimo grado di incisività questa unione lì le cose procedono in maniera relativamente tranquilla ma non è esattamente la stessa cosa quando invece si spostano sempre nell'estate successiva a San Giuseppe Vesuviano dove agiscono questi i soggetti base della formazione base di cui ho parlato ma anche altri operatori che più o meno già conosciamo quasi tutti e però si aggiungono in maniera più o meno estemporanea per esempio in questa occasione a San Giuseppe Vesuviano c'è anche Gabriele Marino il fratello maggiore di Livio di cui già ho parlato prima poi c'è Abel Antonio Danna detto Abel il quale era stato già tra i protagonisti della pop art di Luca era stato nel giro delle mostre della pop art ma di cui ancora torneremo a parlare per altri motivi in altre dirette prossime poi c'è Navarra Enzo Navarra reduce appunto dalla dall'esperienza dell'ospizio di Cordenon e poi c'è Giuseppe Onesti chi era Giuseppe Onesti Giuseppe Onesti è Fiulano già operatore del gruppo La Roggia di Pordenone che ovviamente giunge lì centro di Pordenone lo si può capire che giunge in virtù della mediazione di Enzo Navarra e quindi il collettivo i personaggi base di cui ho parlato più questi altri che si aggiungono mettono lì in atto un'aspra critica contro la gestione e l'amministrazione dei beni pubblici il modo in cui venivano gestiti ovviamente là va meno bene rispetto a fila tutto meno liscio rispetto a Nocera perché lì è un territorio credo ancora oggi ma all'epoca lo era di grande diciamo presenza a livello di malavita organizzata e quindi era un territorio con tutta una serie di tensioni di cui non si di cui anche loro non potevano non risentire facendo un'azione del genere non si era diciamo così controllati e troppa libertà evidentemente spaventava e però fin quando si diciamo nel tempo breve in cui riescono a mettere in atto questa operazione l'operazione risulta comunque davvero prorompente di un certo interesse ve la descrivo partendo dicendovi piano piano quali sono i singoli apporti che qua sono più riconoscibili rispetto a Nocera dei singoli operatori allora Abel realizza una grande gabbia che è simbolo della sovrapposizione del potere sulla realtà originaria c'è sempre questo discorso di un potere che opprime un territorio e questa grande gabbia poi è bene ricordarsela perché ritornerà in altre operazioni anche non del gruppo linea continua terra di lavoro ma del gruppo di cui vi parlerò di cui farà parte anche Abel successivamente e questa gabbia viene posta nei giardini pubblici questa gabbia diciamo che fa un po' da cornice perché ogni operatore la riempie di oggetti da lui realizzati per esempio lo stesso Abel l'autore della gabbia vi pone un dipinto di un maiale che è un richiamo alla tradizionale attività del mercato del bestiame ormai caduto in abbandono quindi è una denuncia che va a colpire al cuore la questione sociale di quel territorio poi c'è Raffaele Bova che usce su una tela apposita l'immagine della lira ancora una volta usando per le scritte lettere a somiglianze degli animali un tempo oggetto di mercato ancora una volta si va a battere sulla lira ma anche sulla storia pregressa e sulla crisi dell'economia di San Giuseppe Vesuviano e al centro di tutto ciò pone ancora una volta l'immagine di un maiale poi c'è Gabriele Marino che traccia sul terreno le caselle del gioco della settimana che allude alle origini della realtà rurale vesuviana poi c'è Napoletano che invita invece al gioco del chiodo che cos'è il gioco del chiodo consiste nel fissare con tre colpi un chiodo in asse in cambio di simbolici premi quindi è un gioco povero per così dire poi c'è ribattezzato che sulla tela che era servita per realizzare la gabbia traccia innumerevoli finestre richiamanti la reggia di caserta perché appunto la finestra poi lo vedremo anche in altre operazioni è il tratto tipico di ribattezzato la reggia casertana e tutte le implicazioni di cui si è detto il dominio il potere che poi sono anche un po' le implicazioni che sono all'origine di questa operazione di denuncia la gabbia poi c'è Livio Marino che ovviamente ancora una volta agisce coi timbri e quindi certifica varie situazioni in maniera ironica e provocatoria per denunciare quella che lui chiama l'elefantiasi burocratica i ritardi delle decisioni politiche l'immobilismo delle istituzioni che appunto aveva molto a che fare con la vita pubblica del paese e poi c'è Ferraro che porta il suo spaventapasseri e lo copre con un foglio di plastica recante scritte provocatorie e polemiche in riferimento agli scempi che recentemente si erano verificati in agricoltura poi c'è Enzo Navarra che anche lui ha il suo segno come potrete ricordare quando vi ho parlato di Navarra è l'uovo lui porta un uovo gigantesco dal quale estrae confetti di materiale povero che sono una sorta di simbolico recupero delle due forme principali di attività tradizionale del lugo ovvero l'agricoltura in via di distruzione e l'artigianato che viene sostituito progressivamente dall'industria infine Onesti quello di Pordenone realizza sagome di animali che poi vengono certificate con il timbro da Livio Marino e offerte ai cittadini e vuole essere una sorta di metafora della ristrutturazione della zootecnia tuttavia quest'operazione così amena viene interrotta dalle forze dell'ordine per mancata richiesta di autorizzazione e occupazione abusiva di suolo pubblico quindi gli artisti se ne devono andare a casa è però comunque un po' di bordellino diciamo che l'hanno fatto ostacoli sorgono anche in un'altra interessantissima operazione consideriamo che molti di questi artisti sono anche insegnanti al liceo artistico di Aversa allora loro intendono fare un'operazione di relazione e anche di denuncia con gli studenti del liceo artistico e si rivolgono al preside con una lettera un attimo un documento esplicativo che così esordisce è scritto nei confronti dell'istituzione scolastica il collettivo si propone di aprire un discorso diretto con gli studenti e con il personale della scuola docente e nonna che mira a denunciare la crisi di contenuti e di struttura che la scuola attualmente vive per difficoltà oggettive fuga dalle responsabilità rinuncia al ruolo di produttori di cultura eccetera è la condizione aberrante in cui i giovani sono costretti nella struttura scolastica stantia ripetitrice di schemi superati anacronistici slegati dalla realtà concreta aperta e chiusa parentesi per certi versi secondo me la scuola in questi decenni è diventata molto peggio perché non solo non si sono fatte riforme ma si sono fatte tante contro riforme che vanno nella direzione della subordinazione della scuola alle logiche aziendali insomma dal del governo d'Alema con Berlinguer fino a quello delle amminità che sono scritte nel piano colano comunque chiudo questa parentesi perché il materiale è ancora tanto quindi i vari artisti si propongono di proporre insomma di mettere in campo una serie di operazioni di relazione con i loro studenti i loro studenti tra l'altro perché insomma molti di loro come vi ho detto erano docenti del liceo artistico ognuno ancora una volta portando avanti il suo i suoi tratti specifici della poetica le sue attitudini specifiche per esempio Livio Marino vuole bollare gli studenti con un timbro che rega la scritta probabile disoccupato intellettuale oppure Bova Liv vorrebbe incoronare con una sorta di aureola in effetti l'aureola è uno sviluppo del del suo lavoro sulla moneta e questa aureola rega la scritta repubblica italiana che deriva appunto dalla moneta di cento lire sulla quale lavora poi ribattezzato pensa di rivestirli con una tunica sulla quale sempre gli studenti sulla quale rega le immagini della finestra delle finestre della reggia vambiterliana e poi Abel vorrebbe che ciascuno degli studenti così bardato sia posto in posa sotto un grande angelo con quattro mani che è un'altra figura tipica della poetica di Abel e nelle quattro mani rega uno scettro simbolo del potere una spada testimonianza del rapporto di terrorismo psicologico ancora vigente in alcune strutture scolastiche una bilancia che denuncia una forma di giustizia scolastica ancora basata sulla meritocrazia che è un termine che per alcuni ha un'accezione positiva per me per Abel e per molti altri non l'ha affatto e invece lui ritiene che non si dovrebbe parlare di meritocrazia ma di possibilità di formazione individuale e poi quest'angelo ancora possiede un libro che è testimonianza di una cultura stereotipata stantia e largamente superata dai contenuti perché la cultura è libresca ma anche esperienza oggi forse questa cosa sarebbe un po' anacronistica perché insomma si è persa anche la molto la capacità di lettura e di comprensione del testo però ovviamente bisogna rapportare il tutto all'epoca poi Gallo Pierino Gallo vuole segnare il profilo degli studenti su una parete quasi a significare il progressivo annullamento di qualunque realtà concreta dell'individuo nella pastoia degli schemi denunciati dagli altri interventi quindi è un discorso in cui ognuno mette qualcosa però alla fine si va a parare sempre sullo stesso messaggio insomma si cerca di dire in diversi modi la stessa cosa quindi rafforzandola e dunque però tutto questo non avviene o almeno non avviene diciamo così ufficialmente nel senso che il preside vieta questa cosa e scrive così Luca Palermo sebbene sia proprio nella scuola che dovrebbero essere fornite le basi per la costruzione di un pensiero critico e per la formazione di un dialogo dibattito costruttivo il direttore del liceo rifiutò di considerare la richiesta di intervento presentata dal collettivo casertano per tali ragioni l'azione si tenne in concomitanza con l'uscita degli studenti all'esterno dell'edificio e quindi si tenne comunque questa azione però un po' diciamo in maniera informale diciamo in maniera più clandestina invece come dire probabilmente loro volevano che il preside desse il permesso perché così sarebbe stata un'invasione più come dire avrebbe creato ancora più rumore più scandalo magari ci sarebbero stati colleghi che non sarebbero stati d'accordo avrebbero avrebbe creato un caso senz'altro più di maggiore impatto e invece non va così questa cosa la replicano poco dopo anche a a Salerno all'università di Salerno però lì non giocano in casa perché c'è crispolti quindi insomma è facile è facile era una cosa abbastanza facile anche se non va sottovalutata un'ultima cosa che voglio dire su questa operazione è che tutto ciò avviene nella primavera del 77 e il 77 è un anno particolare soprattutto per l'Italia per il movimento omonico del 77 e tutto ciò va a testimoniare il fatto che appunto Linea Continua sostanzialmente non intercetti soltanto le istanze più tradizionali di contadini e operai ma sia anche più o meno cosciente di quelli che erano poi i temi del movimento del 77 cioè il discorso della cooptazione del lavoro cognitivo da parte del capitale insomma quindi discorsi legati a quello che poi sarà sempre più chiamato lavoro cognitivo immateriale e la marginalizzazione di questo lavoro cognitivo immateriale che il movimento del 77 sicuramente denuncia con grande con grande lungimiranza e che poi appunto è la storia dei decenni successivi e anche di oggi questo sottolinea appunto anche il fatto che il movimento del 77 è un movimento capillare che si diffonde dalla Val d'Aosta a Scilla e Caridi fino alla Sicilia e anche nei centri medio-piccoli del paese ora vorrei un attimo ancora tenervi per un po' la gran parte della diretta ovviamente del tempo è già andato però vorrei parlare ancora di alcune cose innanzitutto di dire qualche parola su Giovanni Tariello perché Giovanni Tariello abbiamo detto che è uno degli artisti che si difila abbastanza presto dalla linea continua per divergenze di cui verrò a parlare di qui a poco però comunque è un artista che ha a che fare con le sue operazioni lungo gli anni settanta con l'arte verso la vita con l'arte che sconfina nella vita e poi come spesso faccio per i gruppi che arrivano cioè come sempre faccio per i gruppi che arrivano fino al 1980 più o meno quindi agli anni della crisi del sociale vorrei parlare anche di come avviene nello specifico diciamo il crepuscolo la parte crepuscolare del del gruppo del collettivo linea continua terra di lavoro dunque Tarillo insieme ad Anziano e Ventriglia abbiamo detto che si rifiuta di continuare a far parte di linea continua perché non condivide il manifesto scritto da Di Grazia i contenuti del 68 si sono esauriti però appunto non è un dissenso che ha a che fare con il discorso della cooperazione bensì con l'eccessivo grado che starebbe assumendo il gruppo ancora pochi anni fa io ricordo sono stato allo studio di Tariello a Castelmorrone lui mi disse appunto che lui riteneva che insomma gli artisti stessero facendo i suoi compagni di strada stessero facendo delle cose che andavano troppo al di là del poetico dell'artistico e sconfinavano nel politico e invece lui riteneva che diciamo avendo lui a cuore comunque la dimensione politica però riteneva che questa dimensione politica bisognasse affrontarla in un modo diverso penso per esempio abbiamo parlato di capocasale il fatto stesso di occuparsi delle questioni dell'acqua della rete telefonica probabilmente era una cosa che Tariello vedeva lontane dalla sua concezione dell'arte e allora Tariello che fa? si allontana e comincia a mettere in atto o meglio già lo faceva da prima contemporaneamente già quando era in linea continua o forse ancora prima che si fondasse in linea continua lui intraprende appunto delle operazioni che interessano comunque al nostro discorso delle operazioni che del resto comunque malgrado certe differenze non sono neanche troppo lontane da quelle dei suoi amici e colleghi tanto è vero che Cris Polti si interessa a queste operazioni e scrive più volte su di lui tutto ciò ha origine ancora una volta dalla specificità del territorio quale territorio però non so chi di voi sicuramente alcuni sì magari proprio perché conoscono Tariello e sono andati a trovarlo non so chi di voi conosce Castelmorrone Castelmorrone è un paesino posto su una collina a 10 chilometri a nord di Caserta e caratterizzato da un'ancestrale tradizione rurale ancora molto viva sicuramente all'epoca ma magari sicuramente in parte anche oggi e Tariello lavora appunto sul tessuto antropologico di Castelmorrone portando avanti tutta una serie di interventi che tendono fortemente alla teatralizzazione in pratica i protagonisti di questo teatro non sono altro che appunto i contadini di Castelmorrone o presi nella loro normale quotidianità oppure le momenti di eccezione che possono essere le feste che stanno all'interno della loro tradizione millenaria per esempio è il caso di un'operazione come la Zezza che è una sorta di farsa carnevalesca operazione che Tariello mette in atto nel 77 oppure dell'ultima cena che del 1978 che è praticamente una grande tavolata dove i contadini sono intenti a desinare davanti a una grande tavola imbandita con tutti i prodotti dell'uovo semplicemente questo quindi i contadini diventano tutti più o meno consapevoli attori e qui la cronaca in qualche modo con la stessa complicità del titolo va ad unirsi alla storia sacra perché appunto si chiama l'ultima cena ma anche ovviamente c'è un riferimento una sovrapposizione alla grande storia della della pittura occidentale quindi una scena comune di contadini una tavolata domenicale assorge sul piano di solennità straniante poi altra opera è altra azione solco che ha a che fare con con un'azione che ancora esercitano i contadini almeno all'epoca dei fatti nel 76 però subisce uno slittamento di funzione perché se un tempo il solco si tracciava l'otto settembre per significare la vita della fine dell'attività agricola oramai tutto ciò non serve perché ci sono le serre però questo solco viene ancora realizzato non per seminare a rare raccogliere ma viene offerto in dono a Maria alla Madonna e poi un'altra azione ancora è storia di Piera del 1979 dove una ballerina di danza classica si esibisce nel palazzo locale del paese e quindi qui si mette in atto un'inedita dislocazione dei luoghi che passano si passano dai luoghi del lavoro del lavoro anche molto duro umile al lavoro invece ai luoghi del potere e quindi alla faticosa bellezza fugale della terra si sostituisce la fulgida bellezza nobiliare del palazzo io credo che l'attitudine di Tarello sia una sorta di attitudine semi-antropologica definita così perché semi-antropologica mi spiego perché Tarello non è un antropologo tradizionale diciamo così bianco e occidentale è bianco occidentale però non è un bianco occidentale accademico ecco non è l'antropologo che va alla Levi-Strauss che va a esplorare usi e costumi di popolazioni dai quali lo divide una distanza culturale e geografica enorme lui è un po' diverso dall'abitante di Castelmorrone tipico perché comunque ha studiato a Napoli in accademia per un periodo è stato addirittura a Milano per insegnamento quindi insomma tutto ciò gli è bastato però a creare quella giusta distanza che poi quando torni ti fa amare ancora di più il paese e te lo fa guardare con occhi parzialmente diversi quindi lo sguardo di Tarillo è sempre uno sguardo duplice perché da una parte è quello dell'artista antropologo e quindi questo che gli permette di osservare il mondo dei suoi conterrani in un'accezione un po' differente e di mettere in atto cose a cui gli altri non penserebbero perché è chiaro che il contadino non pensa le sue azioni come performance artistica però dall'altra la sua cultura concide assolutamente con quella dei contadini quindi raccontare le storie dei contadini e anche raccontare la sua storia è molto eloquente quello che scrive Enzo Battarra che è un critico che penso tutti voi che mi state ascoltando quasi conoscete che inizia ad essere attivo alla fine degli anni 70 un critico casertano appunto che ha scritto anche lui molto su Tariello e sui gruppi casertani e lui scrive trasferire in gallerie private il microcosmo di Castelmorrone è quello che fa appunto Tariello trasferire in gallerie private il microcosmo di Castelmorrone perché trasferire in gallerie private perché molto spesso appunto Tariello realizza dei video di queste cioè tutte queste performance alla fine poi vengono vengono riprese e quindi si crea molto spesso un cortocircuito tra quello che è lo spazio asettico sicuramente non tutt'altro che rurale della galleria in cui si va ad esporre e la la nazione che invece deriva dall'ambiente rurale di Castelmorrone veniamo ora al crepuscolo specifico quindi ritorniamo a linea continua terra di lavoro anche se insomma il crepuscolo lo sappiamo non è una cosa relativa specificamente al gruppo di linea continua ma è una cosa che riguarda tutto il movimento dell'arte sociale è un certo tipo di arte legata allo sconfinamento è lo stesso di Grazia che in un catalogo del 2004 che in realtà è dedicato alla casa del popolo di Ponticelli però parla in generale dell'attività dei gruppi dell'arte nel sociale il quale per essere uno che aveva scritto un manifesto di quella forza come i contenuti del 68 si sono esauriti aver proposto con tale convinzione un legame così stretto appunto tra operatività artistica e istanze politiche nel momento in cui scrive nel 2004 certo sono passati già molti decenni però scrive una cosa come quella che vi sto per leggere si rimane un po' interdetti e si nota che quantomeno di Grazia ha fatto una riflessione che lo ha portato piaccia o meno a rivedere le sue convinzioni di allora lui scrive anche per l'attività estetica nel sociale il fondamento ideologico e politico piuttosto che estetico la mancanza in buona sostanza di un pensiero di supporto ampiamente filosofico o anche più semplicemente di una nuova estetica ridusse il decentramento a termini specificamente logistici e all'affermazione della preminenza della creatività sull'artisticità si manifestò come idea di assemblearismo piuttosto che come intenzione di un autentico rinnovamento dell'estetica sicché non è strano che abbia proseguito in qualche modo le sorti che abbia seguito in qualche modo le sorti delle scelte politiche secondo me questa è una visione che non è assolutamente priva di fondamento però è un pochettino ingenerosa in generale sul movimento dell'articolo sociale in genere c'è un'opera che almeno col senno di poi è indice dell'esaurimento di una certa spinta e risale al 1979 tra l'altro sappiamo che un po' tutti i gruppi ma in particolare il gruppo linea continua terra di lavoro è molto fluido per quanto riguarda le entrate e le uscite ribattezzato Aldo ribattezzato quello della reggia di Caserta delle finestre è andato via ma già nel 79 ma è stato rimpiazzato da un altro giovane allora giovane artista che tra l'altro nei miei contatti di facebook potrebbe stare anche seguendo se nel caso lo saluto Antonello Tagliaferro che appunto è venuto a rimpiazzare ribattezzato e nel 79 si realizza questo il primo dei politici politici che secondo Vincenzo Perna aprono apre una nuova fase per quanto riguarda il percorso di linea continua terra di lavoro questo primo politico politico si chiama Croce del Sud e si richiama alla circostanza per cui quell'anno il 79 è dedicato dall'ONU e dall'UNICEF al fanciullo e qui ascoltiamo ancora una volta Enzo Battarra il quale si chiede una dedica formale o reale chiede in maniera provocatoria e cerca di ricondurlo a ricondurre questa questa istanza alla quotidiana realtà cioè al morbo sinciziale a Napoli e nelle altre province meridionali ora come questa Croce del Sud dunque si tratta di una croce di legno di foggia greca costruita costituita da cinque corpi quadrati ciascuno 70 centimetri per 70 che quindi formano un braccio orizzontale e uno verticale ciascuno di due metri e dieci quindi un bel un bell'oggetto abbastanza grande relativamente grande ogni artista più o meno interviene su un riquadro il riquadro di Livio Marino presenta una specie di carta legale con marche da bollo e la scritta il burocrate certifica sinciziale quindi la malattia di qui sopra al centro invece il quadrato il cubo di di bova che colloca una specie di altarino affollato di santini attraversato dalla scritta santo bono santo bono ospedale di napoli ora pronobis poi a destra nel braccio di destra napoletano presenta un ridottissimo paesaggio con il ben noto pino il pino dell'olografia napoletana che occupa i due terzi del campo a lui dedicato con una trappola e sette topi che vi corrono incontro quindi tutte operazioni anche ironiche e insomma dissacranti e anche un po' legate all'orrido se vogliamo poi c'è lo spazio in alto che è quello di Peppe Ferraro che mette a confronto mette disegnini di bambini e figure di fanciulli al lavoro quindi i bambini che disegnano cose infantili quindi una beata infanzia e invece all'altra parte il lavoro minorile poi c'è Antonello Tagliaferro la nuventri che anche lui riprende e modifica la veduta oleografica del Golfo di Napoli il pino e il vesuvio sostituendo però alla figura di Cucinella quello di un operatore sanitario unito della regolamentare mascherina e torniamo ad un oggetto che sta diventando praticamente il singolo di quest'anno speriamo solo di quest'anno non di questo decennio o più ancora insomma io tra parentesi ho visto anche che qualcuno non so chi sta organizzando le mascherine d'artista per cui ogni artista dipinge la sua mascherina non so bene insomma questo può aiutare un po' anche a esorcizzare certi drammi ora scrive Vincenzo Perna che è un altro critico che abbiamo già trovato in occasione quando abbiamo parlato di Navarra certo la croce può ripiegare le braccia e diventare un cubo con un lato vuoto da dimenticare in galleria o sotto il municipio quindi è un oggetto che può anche come dire essere messo lì a costituire un dislocato a costituire ancora una volta una sorta di denuncia però tutto questo fatto per cui ripiega le braccia insomma questo fatto per cui è praticabile per così dire a mio parere non basta assolutamente a cancellare l'impressione che questa nuova fase di linea continua corrisponda a una minore dinamizzazione e a quella che chiamerei una sorta di riorgettualizzazione è assolutamente conseguenziale quindi dal mio punto di vista il rilevo di Antonello Tagliaferro il quale dice che dopo la croce del sud il collettivo iniziò per cause naturali a perdere il collante fermo restando che lo sappiamo tra tra i membri del del movimento dell'arte nel sociale e in particolare anche del collettivo casertano vi è chi fino all'ultimo non si rassegna a questo declino e restivo a lasciar cadere nel nulla questa esperienza comunque così bella che era stata assolutamente formativa in cui si era fortemente creduto tra questi è sicuramente il caso di Livio Marino il quale cerca di arginare il venir meno di questa voglia di lavorare in gruppo cercando appunto di fare un uso virtuoso diciamo così del suo ruolo di docente e infatti lui scrive lavorando come docente nei licei artistici se mi sono sempre considerato parte di un collettivo i cui membri erano di volta in volta gli alunni che formavano le mie classi una cosa che abbiamo già visto fare da De Simone da Rescigno qualche volta anche da altri ne vedremo altri ancora allora ho sempre cercato di trasmettere l'utilità etica e sociale dell'arte e con loro ho progettato diverse operazioni estetiche e sociale o sociali con i miei alunni ho dunque continuato ad affrontare poeticamente questioni e urgenze di natura sociopolitica e voglio citare un caso in particolare che è proprio al limite degli anni di cui ci occupiamo ovvero l'azione è scoppiata la primavera che si tiene presso il liceo artistico di Aversa presso il quale insegnava Livio Marino sempre quel liceo artistico dove c'era quel preside che si era rifiutato di far agire gli artisti in quel senso così irriverente e in pratica questo intervento è scoppiata la primavera nel marzo del 1980 e strutturato in più monumenti così lo descrive Livio Marino un fiume di fiori fu riuscito da un buco sul soffitto invadeva i corridoi dell'edificio io invitai tutti a togliersi la maschera dietro la quale ci si nascondeva per non affrontare i problemi i miei studenti seminavano nel cortile della scuola fiori di plastica per la cui produzione si sfruttava il lavoro in nero dei giovani e si usavano colle dannose per la salute infine in un cortile adibito a parcheggio ricoprimmo le auto con teli recanti fiori colorati in tal modo si vanno a sollevare scrive ancora Marino alcune delle problematiche più urgenti del territorio dalla pericolosità dell'edilizia scolastica allo sfruttamento legato al lavoro nero passando per l'attenzione all'ambiente all'ecologia vedete purtroppo tutta una serie di problemi che non solo da allora non sono risolti ma che si sono oppure aggravati e abbiamo molto meno tempo per risolverli perché ci piaccia o no un'ultima cosa voglio dire che questo motivo della maschera abbiamo udito la maschera passa poi in quello che Luca Palermo sempre nel suo libro che ho citato definisce giustamente l'ultimo sussurto associazionistico in ambito casertano che cos'è quest'ultimo sussurto questo gruppo o meglio gruppo a due come direbbe Massimo Troisi non so se vi ricordate quell'episodio contenuto nel film Le vie del signore sono finite in cui Troisi batte con con l'altro con la sua spalla dice può esistere un gruppo a due gruppo a due ci vogliono più di due persone perché se no ne ero un gruppo comunque il questo ecco allora questa aggregazione non chiamiamo la gruppa è fatta di due persone un nuovo Livio Marino e Antonello Tagliaferro il quale diciamo che è una sorta di diciamo di di duo che nasce in sostituzione del del collettivo linea continua terra di lavoro perché molti non sono più tanto evidentemente determinati per varie ragioni a lavorare in gruppo e invece Livio Marino e Antonello Tagliaferro hanno ancora la volontà in parte di portare avanti certe istanze e il suo anno Mirabilis sempre secondo quanto testimonia Luca Palermo il quale tra l'altro ha scritto un libro specifico proprio su questa su questo su questa su questa operazione di Livio Marino e Antonello Tagliaferro la 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 sigla del di questo soggetto era Livio Marino e Antonello Tagliaferro SRL che ovviamente insomma anche con l'SRL Società della Responsabilità Limitata richiamava esperienze precedenti di Livio Marino per quanto riguarda la critica degli apparati diciamo delle istituzioni della formalità istituzionale e dicevo tutto avviene la gran parte della allorazione avviene nel 1980 poi nell'81 si sciolgono quindi c'è la critica della burocratizzazione però una cosa che davvero li distacca dalla stagione precedente quindi questo fa sì che anche la volontà sia pure abbastanza netta e determinata di alcuni soggetti poi si vada a scontrare con tutta una serie di movimenti della storia che vanno in senso contrario e vi dicevo la cosa che li distacca dalla stagione precedente è l'ambientazione generalmente galleristica che questo Livio Marino Antonello Tagliaferro SRL trova sostanzialmente avviene all'interno delle gallerie e questa è la storia sul versante casertano dell'arte come azione come trasformarsi in vita quotidiana diciamo così per quanto riguarda la seconda metà degli anni settanta e quindi pienamente all'interno della cooperazione dell'arte ora la prossima volta parliamo di due sigle che però hanno una continuità tra di loro parliamo prima dell'open laboratori che è fondato da Ciro De Falco che è un artista che è morto una decina d'anni fa sicuramente alcuni di voi che mi state ascoltando l'avete conosciuto magari altri più giovani non l'hanno mai sentito nominare è l'open laboratori animato da Ciro De Falco in un primo momento anche se coinvolge sempre altri operatori coinvolge anche minorenni bambini insomma soprattutto nella prima fase e poi però nella nella seconda fase che arriva insomma mi pare che viene fondato nel 76 neanche De Falco alla Biennale di Venezia e poi nella seconda fase ovvero negli ultimissimi anni credo nel 79 nel 78 nel 78 cambia un po' conformazione perché sostanzialmente a Ciro De Falco si aggiungono alla pari Gerardo Di Fiore di cui abbiamo già parlato tante volte ne abbiamo parlato per quanto riguarda la la social group ne abbiamo parlato per quanto riguarda i suoi interventi nell'ambito di Marigliano Napoli situazione 75 e Enrico Vigiano Enrico Vigiano che è un altro soggetto importante nella fase finale dei gruppi dell'arte nel sociale dopodiché siccome questa l'open laboratory cambia un po' conformazione si cristallizza su l'azione di questi tre protagonisti nel poi nel 79 fino all'80 quando di fatto si scioglie cambia nome e si chiama laboratorio 3 proprio perché era composto da questi tre personaggi e piano piano vedremo come anche questa parabola dai primi passi dell'open laboratory fino agli ultimi passi del laboratorio 3 come abbiamo visto anche per la linea continua terra di lavoro per il gruppo soleno 75 e in parte anche per gli ambulanti vedremo che disegnerà una parabola di graduale ritorno diciamo così ad una normalità ma nel senso non positivo o almeno non solo positivo una normalità legata ad un'arte più addomesticata più oggettuale più statica meno legata appunto a quell'eccedenza che sappiamo essere la caratteristica a me ma credo non solo a me tanto cara delle operazioni più riuscite della stagione di cui stiamo parlando io vi saluto vi ringrazio per la pazienza che ultimamente vi sto chiedendo ancora di più del solito perché sono storie molto dense di protagonisti e di avvenimenti la prossima volta pure ci sarà un bel po' di materiale ma un poco poco più breve penso che sarà grazie a tutti vi auguro una buona serata e un buon appetito di cena arrivederci